Le scelte rapide del touchscreen sono tasti del menu principale che si possono personalizzare per creare collegamente alle funzioni più usate del sistema. Questa guida descrive scelte rapide del menu principale, personalizzazione delle scelte rapide. Per personalizzare le scelte rapide, toccare prima di tutto il tasto Impostazioni sul menu principale. Quindi, toccare il tasto Sistema per aprire il menu Impostazioni di sistema. Toccare il tasto Scelta rapida menu iniziale. Usare le frecce per scorrere l'elenco in alto o in basso e visualizzare altre opzioni. Per selezionare una nuova voce è necessario deselezionarne un'altra. Le voci selezionate vengono automaticamente memorizzate. Per ripristinare le impostazioni predefinite delle scelte rapide, toccare il tasto Predefinite. In questo esempio, rimuoveremo la scelta rapida Impostazioni audio dalla schermata del menu principale per sostituirla con Luce ambiente. Prima di tutto, deselezionare Impostazioni audio toccando il tasto Impostazioni audio. Ora è possibile selezionare una nuova scelta rapida. Toccare il tasto Luce ambiente per selezionarlo. La scelta rapida Luce ambiente apparirà ora sul menu principale. Per maggiori informazioni su questa funzione, consultare il manuale dell'utente. Per ulteriore assistenza, contattare il concessionario. Per ulteriore assistenza, contattare il comune di testo. Grazie.